Tutto pronto per il primo atto della nuova stagione. Domani infatti Teramo e L'Aquila avranno il primo incontro ufficiale nella Coppa Italia Team. I biancorossi dopo l'allenamento allo stadio Bonolis sono partiti alla volta di Bolzano dove domani alle ore 17 affronteranno il Siutirol. Saranno due giocatori indisponibili per il tecnico Vivarini, entrambi del reparto difensivo. Si tratta dello squalificato Scipioni, al suo posto è pronto il ventenne Simone Brugaletta e l'infortunato Caidi che sarà sostituito molto probabilmente da uno tra Diachité, Perrotta e Speranza. Non dovrebbero invece esserci problemi per l'attaccante Donnarumma, rimasto precauzionalmente a riposo nell'amichevole vinta giovedì scorso contro il Martinsicuro. Per quanto riguarda il centrocampo, sulle fasce è un duello tra Petrella Fiore e Di Paolo Antonio Bonaiuto. In mediana è recuperato Amadio mentre in attacco si punterà Capitan Bucchi e al tandem Lapadula Casolla. Per quanto riguarda l'Aquila invece, i Rosso Blu affronteranno sempre domani al fattori alle ore 19 l'Alto Vicentino, formazione che milita in serie D. I ragazzi del tecnico Pagliari ancora in ritiro ad Amatrice partiranno domani pomeriggio alle 16. Subito dopo la partita faranno ritorno al quartier generale per preparare il test amichevole contro il Trastevere anticipato a lunedì. In base al risultato del primo turno eliminatorio di Coppa Italia, Pagliari deciderà se dare due o più giorni di riposo per riprendere poi lavori sul campo di San Gregorio.